I Vespri d'Organo a Cristo Re tagliano il traguardo della ventesima edizione in grande stile, uscendo dal tradizionale territorio pesarese e diffondendosi per la provincia di Pesaro Urbino con spettacoli che hanno riscosso ovunque un grande successo, a testimonianza del percorso tracciato negli anni precedenti e della lungimirante guida di quest'anno. È stata un'edizione novissima che si è inserita nell'arco di 20 eventi del genere, per cui un'associazione che gode di ottima vita e vitalità grazie a quello che è il direttore artistico, che è la vera animatrice dell'associazione, per la realizzazione degli eventi, la ricerca degli artisti, eccetera. E devo dire che il bilancio di quest'anno è stato estremamente positivo ed è dovuto a un gioco di squadra molto interessante e molto valido. Il mio pensiero va innanzitutto a un ringraziamento doveroso al presidente uscente, al dottor Francesco Marini, a quale io sono succeduto pensando di fare del mio meglio. L'associazione, ripeto, è arrivata alla sua ventesima edizione e può contare sull'appoggio di questi sponsor, questi sostenitori, che io ringrazio a nome di tutta l'associazione e che mi permetto di nominare, perché il ringraziamento va unitariamente a tutti e ad ognuno di loro, perché se non ci fosse questo loro interessamento, questo loro coinvolgimento, questo loro sostegno, l'associazione non avrebbe modo di esprimersi al massimo. Quindi io ti vorrei ringraziare innanzitutto la Regione Marche, il Comune di Pesaro, la Fondazione Cassa di Pesaro, l'AMAT, la Fondazione, l'Arcigiocese di Pesaro, la città di Urbino, la città di Montelabate, la città di Monbaroccio e i due sponsor privati che sono la Comise e Filippo Sorcinelli. E devo dire che quest'anno l'edizione è stata caratterizzata da un'apertura anche verso il territorio, nel senso che fino all'anno scorso le manifestazioni si rivolgevano prevalentemente nella città di Pesaro, la chiesa di Cristo Re, la chiesa di nome di Dio, l'Annunziata eccetera. Quest'anno invece l'associazione si è aperta e quindi ha potuto realizzare tre eventi molto belli, molto interessanti che si sono svolti a Urbino, all'Ortorio San Giuseppe, a Montelabate e a Monbaroccio con partecipazione numerosa di pubblico. Siamo usciti dalla nostra zona di confort, come accennava il Presidente, grazie alla solicitazione del Sindaco e dell'Assessore alla Bellezza che ci hanno un po' spinto a organizzare, a portare il Festival dei Vespri d'Organo giunto alla ventesima edizione anche al di fuori della città di Pesaro. E quindi abbiamo fatto tre eventi a Montbaroccio, Montelabate e a Urbino molto seguiti alla scoperta di luoghi meravigliosi, ma alla scoperta di organi estremamente interessanti, perché l'obiettivo dell'associazione è proprio quello di valorizzare attraverso i concerti gli organi presenti nel territorio, organi antichi e moderni, che vengono sempre valorizzati attraverso un repertorio adeguato allo strumento. Una cifra di quest'anno è stata anche il fatto di voler eseguire brani legati al territorio e quindi il secondo concerto ha visto come protagonisti la cappella del Duomo di Fano impegnati in esecuzione di Giuseppe Ripini, che è stato maestro di cappella Fano nel 1700, ma anche il concerto Urbinate ha visto tirar fuori dalla polvere degli archivi manoscritti preziosi di musicisti appartenenti ai nostri luoghi.